Ecco, a proposito anche di Banca Etruria, andiamo a vedere come l'aggiornamento del piano industriale di UbiBanca preveda il taglio di un terzo del personale delle tre cosiddette Good Bank acquisite dopo il risanamento. Comincia con il taglio di 1.569 posti di lavoro e la chiusura di 140 agenzie. La nuova vita di Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti. Tre dei quattro istituti andati in risoluzione nel 2015 che dopo essere stati risanati dai crediti in sofferenza sono stati acquistati da UbiBanca al prezzo simbolico di un euro e una dote di circa 550 milioni di euro per sgravi fiscali. La vendita si è conclusa ieri e la banca bergamasca oggi ha presentato il piano industriale per ridurre entro il 2020 di circa 200 milioni di euro i costi operativi delle tre banche inglobate. Un conto salato per i dipendenti definito come ricambio generazionale dai vertici di UbiBanca ma questo piano allarma il sindacato autonomo dei bancari. Per la Fabi infatti i tagli del personale dovranno essere gestiti attraverso i prepensionamenti e le uscite volontarie e non attraverso i licenziamenti. Si conclude così una storia che è ancora sotto i riflettori delle polemiche per il presunto ruolo avuto dall'allora ministro Boschi sulla vicenda di Banca Etruria di cui il padre era vicepresidente ma anche per la perdita dei soldi di moltissimi risparmiatori che avevano investito denari nelle obbligazioni subordinate. Per la famosa direttiva europea conosciuta come Belin i risparmiatori sono stati chiamati a contribuire al salvataggio delle quattro banche ma dopo le forti proteste per molti di essi il governo Renzi ha dovuto prevedere indennizi automatici o arbitrali. Vedremo come comincerà il nuovo corso di Cari Ferrara la quarta banca che invece sarà inglobata dalla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. Intanto ai mercati il piano di tagli di UbiBanca piace e gli investitori da stamattina acquistano a piene mani il titolo portandolo a più oltre tre punti percentuali. Ma il rialzo di piazza affari, la migliore rispetto alle altre piazze europee è determinato dalle trimestrali delle altre banche tra tutte spicca Unicredit indifferente alla polemica politica ma premiata dagli utili raggiunti nel primo trimestre ben sopra le aspettative 907 milioni di euro contro i 612 milioni previsti.